Senta mister, la squadra che vince non si cambia, la squadra che perde, uno o due ritocchi possibili? Ma è rimesso in discussione un po' tutti martedì, ma non per la prestazione perché secondo me la partita potevamo farla un po' meglio nel primo tempo, però poi nel secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, però è chiaro che quando non si vince si rimette un po' tutto in discussione, quindi valuteremo magari nel corso di questi giorni il da farsi. Ponte Terra è una squadra che solitamente gioca in maniera speculare al Terra, ma questo può essere un vantaggio o uno svantaggio? È una squadra che cura molto la fase del non possesso, non fa mai giocare le squadre avversarie, per noi sarà un po' difficile sotto questo aspetto qua perché non concedono mai palla libera, la palla è sempre coperta, sempre aggredita, quindi da parte nostra dobbiamo tirar fuori una grande prestazione e soprattutto dovremmo essere molto veloci nelle transizioni. Le raggioline saranno bandite dalla panchina, l'attenzione agli altri campi o massima concentrazione? Ma guarda, questo è stato un problema di domenica scorsa, tant'è vero che parlando un po' con i ragazzi, con la squadra, perché noi siamo molto concentrati, determinati e soprattutto vogliosi di far bene la prestazione, però domenica siamo stati un po' condizionati da questo fatto, ma adesso c'è la contemporaneità delle partite, quindi penso che saremo concentrati soprattutto per fare una grande prestazione. Probabilmente sarà battuto il record ogni epoca per le partite interne del Terra, ma a livello di presenza di pubblico, avere una cornice da 6.000 circa spettatori, forse anche di più, sarà importante. È una cosa che mi dà enormemente piacere, sia a me che alla società, perché magari all'inizio non era messo in preventivo questo discorso qui. Questa è un'arma in più che abbiamo, tant'è vero che abbiamo grande tranquillità e convinzione dei nostri mezzi, soprattutto perché sappiamo che abbiamo il pubblico dalla nostra parte che ci darà una grossa mano e quindi speriamo che sia una grande partita.